Arrivano buone notizie dall'aggiornamento dei dati sull'analisi dei tamponi in provincia di Salerno, tutti negativi su un totale di 180 test. 110 sono stati analizzati nel laboratorio dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno, 70 deboli. Ad essere negativi sono i tamponi sui contatti avuti da campagna dal secondo caso di Covid-19, un ragazzo rientrato dalle vacanze. Il primo cittadino Roberto Monaco nella giornata di ieri ha anche deciso a scopo precauzionale di emanare un'ordinanza che obbliga ad indossare la mascherina sempre 24 ore su 24 fino al 31 agosto, ampliando quindi il limite orario imposto dal provvedimento nazionale. Come dicevamo il secondo caso positivo registrato a campagna rientra nella casistica di nuovi contagi di rientro dalle vacanze. In provincia di Salerno si contano otto casi. Ad essere negativi sono anche i test effettuati sui soggetti che hanno avuto contatti diretti con il caso positivo al Covid-19 presente nel territorio del comune di Castel San Giorgio, dove la sindaca Paola Lanzara ha annunciato che ripeterà l'operazione di screening creando una base stabile così da poter effettuare i tamponi a tutti i cittadini di Castel San Giorgio in rientro dalle vacanze. Anche la sindaca Lanzara ha deciso di obbligare i cittadini ad indossare la mascherina sempre.